abito dentro l'autodromo da 33 anni dal 1991 e io ritengo di aver avuto questa fortuna che per altri invece sembra che sia una sfortuna casa mia si trova completamente interclusa dentro l'autodromo perché fronte casa o praticamente il cancello che dà direttamente sul corsello di entrata dei box science appunto aveva incidentato la macchina durante le prove ufficiali e era andato a prenderlo le caratteristiche doveva riportare l'auto nel paddock la caratteristica è passato sulla sala normale intorno al circuito venendo da sopra la via rosa e poi rientrando qui dalla rivazza arrivato di fronte a casa mia trovò l'ingresso del paddock chiuso quindi rimase qui per 15 20 minuti ma proprio di fronte al cancello di casa parcheggiata per metà allora io con i miei amici l'intorno mi cominciamo chiaramente a toccare le gomme della ferrari ma è capitato una cosa è proprio la ferrari che corre